E ora stanno volando gli stracci pesantemente, il PD sta duramente bombardando Melucci, parla di una città invivibile. Domanda, ma per sette anni certe scelte le avete condivise in pieno? Ora il PD pare che voglia rifarsi una verginità politica buttando a mare una esperienza di sette anni per un blackout che è accaduto venti giorni fa. Non si può, dovreste assumervi le vostre responsabilità politiche, dire se ha fallito Melucci abbiamo fallito anche noi. È finito un ciclo ed è sotto gli occhi di tutti. Quello che il PD ha fatto lo rivendica, ma ti aggiorno che qui con me abbiamo appena incontrato... Staffista di Melucci, poi assessore, non dobbiamo ripartire da Taranto, è una presa per i fondelli nei confronti dei cittadini, mi scusi. Lei intanto si autoprenda per i fondelli e poi mi rifà. No, state prendendo voi i cittadini di Taranto per i fondelli.